ciao bentornate bentornati questo è il mio primo video sui limiti di funzione che è un argomento molto importante di matematica sia perché permette di capire il comportamento di una funzione in punti particolari sia perché è l'argomento di base per poi comprendere il calcolo integrale il calcolo differenziale allora quando si inizia a parlare di limiti ci sono due approcci possibili un primo approccio in cui si parte dando la definizione di limite tipicamente il nuovo argomento si dà la definizione però la definizione di limite è molto difficile da comprendere specialmente se non si ha un'idea intuitiva di ciò che un limite di funzione e questo è il tipico approccio universitario o anche di quei docenti delle superiori che vogliono fare una trattazione formale invece un secondo metodo di introduzione ai limiti che è quello che ho scelto per questo video è quello di dare un'idea intuitiva di ciò che è un limite e poi solo in un secondo tempo quando si è preso confidenza con questo nuovo concetto darne una definizione rigorosa in fondo la mente umana funziona così anche i grandi matematici hanno prima avuto delle intuizioni e poi le hanno raffinate un po' come uno scultore che deve fare una statua partendo da un grosso blocco di marmo prima deve sgrossare togliere il grosso e poi dovrà fare il lavoro più di fino io ho quindi preparato quattro brevi video in un primo video che è questo dove definisco il concetto di limite un secondo video dove spiego cosa si intende per limite destro e limite sinistro e limite per accesso e limite per difetto poi un terzo video dove vedremo funzioni che tendono a infinito per x che tende a un certo numero e il comportamento invece di funzioni per x che tende a infinito nel quarto ultimo video ti lascio tutti i link in descrizione se ancora non li vedi è perché non ho ancora avuto tempo di farli tutti comunque se ti iscrivi al canale accendi la campanella verrai avvisato quando li pubblicherò secondo me il modo migliore per approcciarsi al concetto di limite e partire non dalla formula analitica di una funzione ma dal suo grafico consideriamo quindi questo grafico è una retta bucata cioè una retta che non ha il punto 2 3 ma questo punto 2 3 si trova nel punto 2 1 quindi relativamente a questa funzione ove naturalmente l'asse della scissa e l'asse delle x mentre l'asse delle ordinate e l'asse delle y si chiede di calcolare questi tre limiti il limite per x che tende a meno 1 di f di x il limite per x che tende a 0 di f di x e il limite per x che tende a 2 di f di x si chiede quindi di calcolare questi tre risultati scopriamo l'insieme ma già puoi provare ad azzardare dei risultati allora osserviamo questa scrittura qui c'è scritto lim che sta per limite ed è un operatore poi c'è x una frecciolina e meno 1 e si legge limite per x che tende a meno 1 che in parole povere vuol dire sia x molto vicino a meno 1 molto vicino a meno 1 non vuol dire in meno 1 ma vuol dire proprio molto vicino quindi siamo sull'asse x e siamo in questa zona qua che sto colorando in rosso ma quanto vicino a meno 1 potete immaginare vicino quanto vi pare cioè infinitamente vicino ma non esattamente in meno 1 e calcolare il limite vuol dire rispondere a questa domanda se siamo molto vicino a meno 1 a che cosa tende f di x cioè a che cosa si avvicina f di x oppure che limite a f di x cioè la funzione f di x che poi sarebbe la y perché questo è l'asse y che si può anche chiamare f di x quindi a quanto si avvicina la y beh possiamo vederlo dal grafico se siamo molto vicini a meno 1 questa retta in blu si avvicina molto a y uguale a 0 perché l'ordinata vale circa 0 cioè molto vicina a 0 e quindi in conclusione possiamo dire che il limite per x che tende a meno 1 di f di x è uguale a 0 sempre rimanendo su questa funzione proviamo a calcolare un secondo limite allora il limite per x che tende a 0 di f di x vale quanto allora se la scissa è molto vicino a 0 quindi siamo qua che sono le x molto vicine a 0 la y è molto vicino a 1 e quindi il limite per x che tende a 0 di f di x è uguale a 1 terzo e ultimo caso limite per x che tende a 2 quindi siamo molto vicini a 2 secondo voi il risultato di questo limite sarà 3 oppure sarà 1 allora in base a quanto abbiamo detto finora dobbiamo guardare il comportamento della funzione non in x uguale a 2 ma per x molto vicino a 2 e quindi se x è molto vicino a 2 la funzione si trova qui cioè ha una y ovvero una f di x molto vicino a 3 e quindi il limite per x che tende a 2 di f di x è uguale a 3 come vedi non è così complicato concludo con un importante osservazione che forse qualcuno ha già notato quando abbiamo calcolato il primo limite per x che tende a meno 1 di f di x abbiamo ottenuto come risultato 0 e siamo quindi vicino a x uguale meno 1 e la funzione è vicina a 0 però se calcoliamo f di meno 1 cioè se nella funzione mettiamo al posto di x meno 1 otteniamo 0 cioè il valore della funzione in meno 1 e il valore del limite per x che tende a meno 1 hanno lo stesso risultato questo capita ogni volta che la funzione è continua nel punto x uguale meno 1 continua vuol dire che nel disegnare la funzione noi non stacchiamo la penna dal foglio anzi la definizione di funzione continua è proprio questa una funzione detta continua in un punto se in quel punto il valore del limite e il valore della funzione coincidono anche per x che tende a 0 succede la stessa cosa infatti per x che tende a 0 la funzione ha limite 1 ma nel punto 0 la funzione vale 1 e infatti anche in x con 0 la funzione continua cioè quando mi muovo in un intorno si dice di x uguale a 0 non devo staccare la penna dal foglio invece per x che tende a 2 la funzione ha limite 3 ma in x uguale a 2 la funzione non vale 3 perché in x uguale a 2 la funzione vale 1 che è questo punto qua isolato e quando succede che il limite e la funzione danno due risultati diversi perché uno è uguale a 3 l'altro è diverso da 3 allora in quel punto la funzione è discontinua cioè in quel quello è un punto di discontinuità tenete conto che normalmente non si ha a disposizione il grafico ma si ha la forma analitica e quindi studiando i limiti sulla formula si riesce a capire come è fatto il grafico però per un primo approccio è meglio osservare il grafico e capire come sono fatti i limiti per poi riuscire a fare il passaggio inverso quindi dallo studio dei limiti allo studio dei punti di discontinuità quindi ripeto la funzione è continua nei punti x uguale a meno 1 x uguale a 0 mentre è discontinua nel punto x uguale a 2 per il momento è tutto nel prossimo video parleremo di limite destro e limite sinistro e di limite per eccesso e limite per difetto se il video ti è piaciuto ricordati di lasciare un like e iscriverti al canale ciao e grazie